RRRRRRRAGAZZI Se anche voi volete costruire Creare la vostra carta Ad essere toti Ad essere speciali Almeno per una volta su FIFA Come la mia carta Allfood.com Primo link in descrizione E con il codice home Avrete uno sconto pazzescamente incredibile Napoletano, Juventino Uniti per la lotta Napoletani, Juventini, uniti per la lotta Ci siamo, sicuramente Ciao ragazzi e bentornati al canale Oggi ragazzi siamo qui Di nuovo con un nuovo Quiz speciale In occasione di Juventus Napoli E quindi siamo con uno Juventino, vero Patiro23 Spaccate like Superiamo almeno i 10 Mila mi piace Grande che prende anche iniziativa grande Come la sua Juventus capolista E dall'altra parte Il napoletano per eccellenza Abbiamo di due esponenti Di Napoli e Juventus Più esponentosi d'Italia ragazzi Quindi mi raccomando lasciate un bel mi piace Ma soprattutto un commento con il vostro promostico Di Napoli e Juventus Dove Napoli Perché si gioca a Torino Allo Stadium E i marcatori insomma secondo voi Chi vincerà e tutto quanto Bella Cosa andiamo a fare oggi però Andiamo a fare un quiz ragazzi Ho preparato 10 giocatori Che giocano o nella Juventus O nel Napoli E i nostri due cari ragazzi Qui dovranno cercare di dominarli L'unica domanda che non mi potranno fare È dove giocano ovviamente Mi potranno chiedere quello che vogliono Tutte le volte che fanno una domanda Però non possono dirmi il giocatore Quindi se mi fai una domanda E ti viene subito in mente Non puoi dire il giocatore E poi lo dice domandicamente lui Quindi stai attento alle domande che fai Ok Potete dirmi il giocatore solamente Prima di fare la domanda Ok? Ci siamo? Ma giocano attualmente nel Napoli Giocano attualmente nel 2018 O nella Juventus O nel Napoli Allora avrò scelto Kribari Ok, detto ciò partiamo con il primo giocatore Si gioca Eh ma... Cioè devo... Cioè se io già sul giocatore devo dire Eh no, una volta a testa E chi comincia? Comincia Tatino perché gioca in casa Va bene Nella Juventus Quindi Tatino mi puoi fare anche delle domande inerenti a FIFA Perché farò vedere una schermata appunto con la carta di FIFA Detto c'è Tatino Vai con la prima domanda Allora Il giocatore in questione è italiano? Il giocatore in questione è italiano Ok Il giocatore in questione è italiano Il giocatore in questione è un centrocampista? Il giocatore in questione... Fai una domanda un po' più dettagliata Centrocampista cosa riguarda? Eh... Mediano e... Cioè si parla di FIFA Mediano e mezzala Senza esterni Senza esterni Allora il giocatore non è un centrocampista Ok Attenzione Avremo favorito Tatino 23? Il giocatore in questione è un difensore Il giocatore in questione non è un difensore Il giocatore in questione è un esterno alto? Il giocatore in questione è un esterno alto cos'è? Un'ala? E-D 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 Sì Il giocatore in questione è un esterno Sì E attenzione la palla è mano a Tatino adesso Perché prova a mettere insieme le informazioni E qui Allora Il giocatore in questione Sì Ci stringe il campo adesso a Tatino eh È molto stretto il campo Eh... Ha più di 25 anni Il giocatore in questione non dovrebbe avere più di 25 anni no Ok Non ci guardo ma in teoria no Allora secondo me il tuo giocatore è Federico Bernardeschi Beh Andrea il mio giocatore è Federico Bernardeschi Mi sarebbe abbastanza perché pensavo fosse in segno Lo volevo dire Lo volevo dire Ricordatevi che ho scelto giocatori che hanno tante caratteristiche simili ovviamente Lo volevo dire Però che sei detto dopo la domanda Eh intanto ti devi stare attento alla domanda che fai infatti Detto ciò passiamo al prossimo giocatore Quindi 1-0 per me E adesso Esatto Ha segnato il Napoli quindi si riparte a centrocampo sempre con la Juventus Va bene Prego Tatino con la prima domanda Allora Il giocatore Sì È di colore Il giocatore in questione non è di colore Il giocatore in questione fa parte della zona difensiva di una delle due squadre Il giocatore in questione non fa parte della zona difensiva Allora è un attaccante? Il giocatore in questione se attaccante vuol dire AT ATT non è un attaccante Ok Il tuo giocatore è europeo? Il mio giocatore è europeo sì sì Ok Allora io ti chiedo se questo giocatore è un centrocampista Sì centrocampista riparta se riguarda sempre CC Non è un centrocampista Allora secondo me il tuo giocatore è Mare Kamsik Mi dispiace Andrea No ho detto che non è un centrocampista Ah appunto a me rigore c'è autogol Cdc cc o c Autogol Andrea Eh no ho capito cdc cc e ho capito io No Allora fammi fare una domanda Fammi fare una domanda Torniamo indietro dai Ma facciamo ribattere Autogol Autogol bato Autogol dio bato Il tuo giocatore Avete detto che è europeo Sì è bello però il leader dell'autogol quando non lo sbaglio Eh scusa Eh no vabbè dai Facciamo Il tuo giocatore Per caso Ehm Detto che non è centrocampista E' un esterno Il mio giocatore è un esterno Ok Attenzione E qui abbiamo due squadre che giocano con tanti esterni Quindi il campo non è stretto stretto Allora io ti chiedo se il giocatore è un esterno che attacca e difende allo stesso tempo Uh Esatto Esatto Sì ma ti ha detto che italiano è un esterno è un esterno Con le domande Con le domande E partiamo dalla dire No partiamo Però siamo ancora in una cerchia molto ampia E' un esterno Non è un esterno Fa parte della zona difensiva Omar Non fa parte della zona difensiva Cacchio Ok Infatti qui hai tant'info Hai detto che non è europeo Non è europeo Non è europeo Non fa parte della zona difensiva Non è un esterno Tati Qui hai tantissime info eh Ti resti quasi azzardare Non lo so A me io sparo Dai che dirà Non è europeo Dio boh Dio boh Dio boh Dio boh E no adesso no Questa Tati non mi dispiace ma la devo raccontare Quindi hai sbagliato Allora io ti dico il tuo giocatore per caso Ho detto che è un centrocampista Non mi ricordo Certo però prima vado gol No Hai detto il centrocampista Cioè non abbiamo domandato se è un centrocampista Quindi per caso il tuo giocatore è un ATT eh Non è un ATT Meglio così Vai fa la domanda Stai attento a fare la domanda eh Perché potresti avvantaggiare lui adesso Eh come prima Eh ma è così il gioco Però potresti rispondere tu con tutti gli elementi che hai Perché la risposta la potresti dare Non ci sono tanti giocatori che restano eh Eh però più che altro Vabbè vai Il giocatore in questione è Diawara È la risposta buona Però Che razza è l'Italia Diawara? Eh non è Non è l'Africa Non è l'Africa Non è l'Europa Comunque mi dispiace ma non è quello Non è lui Quindi Secondo me adesso FuseGamer risponderà con la risposta esatta Allora Perché non mi ricordo Hai detto che hai domandato se è un esterno Eh quindi dovete ricordare tutte le cose Non è facile Perché no me Io dico domande a cazzo Non mi ricordo quello che dice lui Eh sì Fai una domanda Magari ma vantaggia a me Ma vantaggia prima a te Dio santo Allora il tuo giocatore è Diciamo un CCC di CCC? Sì Eccolo l'ho vantaggia Perché speravo non fosse così io E comunque avete detto tutti i ruoli Eh sì Non è un attaccante, non è un esterno Non fa parte della difesa E per forza è un centrocampista Eh ok Non è europeo Ciao Ti sto facendo riepilogo È arrivata anche la nonna di tattina 23 Bella Allora Devo pensarlo Mi viene in mente il giocatore Dio santo Eh stai fai un'altra domanda Ciao ragazzi Ciao Guarda spostati Siediti che sei sulla Mi fai una fotografia Stiamo in diretta Ciao Siediti che l'ho vista Allora Questa la metti Certo No no non questa Dopo te vedrai cosa è successo Cosa hai fatto? Ah niente Vai a Ho fatto un esofio? No ma che hai fatto? Vai Dai tatti muoviti Aspè devo pensare al giocatore Madonna c'è Sono pochissimi Sicuramente non sconfente C'è una pista Chi cazzo Oh mi do un'altra info È un giocatore No diciamo Titolare A lui dai dì Porca miseria Titolare cazzo Con tutte le info che avete Chiara dimmelo chi è no? Eh va è la fanbrace Ma ciò Puttagliati Dici pure una via Ioana non è Ioana non è Juventus e Napoli Titolare Non è europeo È un centrocampista Ho capito porca madre No Samoa Non è lui Ma è Mark Shallan Madonna è proprio lui Mi sono ricordato Mi sono ricordato Mi sono ricordato Questa è la facile Con tutte le info 3 a 0 Palla al centro Palla al centro Solo sul gioco Beh tattino Vedremo Lo vedremo domenica Peccato Ci vanno la cassa Bonne stiamo registrando 3 a 0 Ok Passiamo adesso Al prossimo giocatore Tattino Stai perdendo 3 a 0 3 a 0 Allora guarda Facciamo partire Fuse Gamer? No Ormai Allora parti tu Così fai le domande No no fai Il tuo giocatore È un portiere Non è un portiere Un attaccante Dai Non è un attaccante Il tuo giocatore È un esterno È un esterno Ed è quadrato Non è quadrato Il tuo giocatore È un esterno offensivo È un esterno offensivo Ok Ma se è Maria Cagliaonna Non è Cagliaonna Non è Cagliaonna Il giocatore È Douglas Costa È Douglas Costa Madonna mia 4 a 0 Avesse lo scritto Tatti L'ultima possibilità 4 a 0 Vanno al centro Sicuramente Allora adesso scelgo Un giocatore Tatti Iguain Ultimo giocatore Qui Tatti Ho la valla spacca 4 a 1 Devi finire da lì Devi indovinare Allora Tattino 23 Vai con la prima domanda Allora Questo giocatore qui È un difensore Questo giocatore qui Non è un difensore Questo giocatore Ha più di 85 Su FIFA Non ha più di 85 È italiano È italiano Il tuo giocatore Cristian Maggio Non è Maggio De Sciglio Non è De Sciglio Il giocatore è un esterno Non è un esterno L'attaccante l'abbiamo chiesto? Eh domanda Eh Non lo so L'attaccante L'esterno offensivo Già abbiamo detto Il giocatore esterno offensivo Non è un esterno offensivo Allora Lo fa ma fa È una d'ora Ho perduto nascosto Noi a Cardiff Tatino Perché ogni volta devo ricordare Sto 4 U? Vabbè dai ragazzi Domenica c'è Iventus Napoli Volete dire qualcosa Vuoi dire qualcosa agli Juventini? Magari finisce a 4 U? È per voi Va bene va bene Vedremo domenio Parlerai campo? Parlerai campo Tatino cosa vuoi dire ai ragazzi di Napoli? Signore Higuain Mi raccomando di iscrivervi al canale di Tatino E anche a quello di Fuse Game Molto bene Quindi ragazzi Cerchiamo di superare 10 milioni di piace per questo video Pazzescamente incredibile Passate in descrizione Le lezioni canali di Fuse Game Editati in 93 Grazie Omar E noi ci ripetiamo al prossimo video Bye ragazzi Sì